Che impatto e che incidenza ha avuto l'infezione da coronavirus sui pazienti con leucemia linfatica cronica ricaduti o refrattari in trattamento con la combinazione veneto con la xerrituximab secondo il protocollo dello studio Murano? A questa domanda risponde un interessante survey contotto durante il periodo pandemico in alcuni centri italiani e presentata al congresso dell'Associazione Europea di Emotologia, l'EHA. Noi ne parliamo con il primo autore di questo studio il dottor Stefano Molica. Dottore ci spiega in che cosa consiste questa survey che voi avete effettuato e perché l'avete effettuata? Quali erano i vostri obiettivi? Intanto diciamo noi stiamo vivendo una problematica assai importante che è quella della gestione diciamo dei pazienti con leucemia linfatica cronica in epoca covid e noto come i pazienti con leucemia linfatica cronica rispetto alle altre emopatie maligne più di altri hanno una condizione di immunodepressione che diciamo intrinseca la patologia in quanto tale ma che spesso come dire ulteriormente aggravata dai trattamenti per leucemia linfatica cronica stessa. Quindi l'ematologo si trova di fronte oggi ad una sfida importante che è quella di trovare una sorta di equilibrio rappresentato dal fatto di dare al paziente la migliore terapia e dall'altro di creare tutto un meccanismo di difesa per il paziente stesso nei confronti di quello che il rischio infettivo da covid-19. Sappiamo come il fatality rate in questi pazienti intorno al 30 per cento quindi è abbastanza elevato. D'altro canto non abbiamo riferimenti che siano riferimenti molto precisi sulla gestione di questi pazienti se non come dire delle expert opinion che però non sono di fatto basate diciamo su dati reali su dati diciamo di medial world né tanto meno ovviamente di trial clinici. L'altra cosa importante è che molti di questi dati fanno riferimento alla prima ondata quando forse diciamo tutto il mondo medico non era preparato molto bene alla gestione di questi pazienti. Quindi diciamo il problema che ci siamo posti è stato quello di andare a vedere quello che succedeva nelle realtà ematologiche di una area piuttosto ampia d'Italia quindi abbiamo come dire considerato il sud Italia in particolare diciamo alcune regioni però comprendo un'area importante che di circa 17 milioni di abitanti quindi rappresenta circa un terzo della popolazione italiana e diciamo ci siamo rivolti a questi centri andando a chiedere un pochino qual era il come dire la fattibilità di un protocollo per i pazienti con malattia recidiva refrattaria rappresentato dalla combinazione per i primi sei mesi di venetoclax e rituximab e poi con l'estensione per un anno e mezzo diciamo del venetoclax in monoterapia quindi una terapia a termine quindi diciamo abbiamo un po' coinvolto come dire una serie di esperti che lavoravano in questi centri che curavano pazienti con leucemia linfatica cronica. Ecco come ci spiega come più in dettaglio come avete condotto questa indagine? Questa indagine è stata coinvolta diciamo somministrando dei questionari ai clinici quindi abbiamo interpellato circa 30 clinici quindi 30 strutture ematologiche di questi 30 clinici 26 hanno risposto 24 avevano trattato almeno un paziente con l'associazione di venetoclax e rituximab secondo lo schema classico del Murano e diciamo e ci siamo focalizzati su tre punti importanti il primo era l'incidenza in corso di terapia di infezione da Covid-19. Il secondo punto era quello della dell'averenza alla terapia e il terzo punto diciamo come venivano gestiti questi pazienti, come venivano monitorati, con che frequenza venivano effettuati per esempio dei tamponi nasofaringeli. Quindi cercando di avere un po' diciamo in una condizione in cui molte delle strutture ematologiche si erano attrezzate molto meglio alla gestione di questi pazienti, di quanto non era avvenuto nella prima ondata, tenga conto diciamo che la survey fa riferimento ad un periodo che va dal gennaio 2020 al dicembre 2020 quindi per avere un po' uno spaccato, un pochino generale su un gruppo però omogeneo di pazienti trattati con modalità omogenea perché finora tutte le informazioni che avevamo erano diciamo su pazienti e la leucemia linfatica cronica è una patologia assolutamente eterogenea che include pazienti che come dire che sono in watch and wait, quindi pazienti che non hanno bisogno di terapia, a pazienti che sono spesso già adesso seconde e terze e anche quarte linee di terapia. Quindi è un mondo assolutamente diciamo complesso ed eterogeneo. Ecco ma dunque che risultati emergono dalla vostra analisi? Emergono diciamo dei risultati diciamo che sono secondo me estremamente interessanti perché intanto diciamo noi abbiamo collezionato 124 pazienti quindi diciamo è un numero assai consistente, pazienti tutti trattati omogeneamente e tutti i pazienti diciamo che provenivano da una condizione di malattia recidiva refrattaria. Le informazioni che noi abbiamo su questi pazienti sono diciamo intanto che l'aderenza alla terapia che i clinici hanno avuto nei confronti del classico protocollo Murano è stata molto elevata perché c'è un'aderenza al trattamento che è del 70 per cento e diciamo nel 29 per cento dei casi quando non c'è stata aderenza era legata a problematiche strettamente connesse alle usuali tossicità di questi farmaci prevalentemente la neutropenia di grado 3 che era strettamente correlata alla terapia con venetoclax e quindi diciamo la non aderenza si è trasformata in discontinuazioni di breve periodo di venetoclax oppure di omissione oppure diciamo spostamento per quanto riguarda la terapia con rituxima. Il secondo punto è che diciamo il più del 65-66 per cento dei pazienti diciamo hanno avuto un tampone all'inizio della terapia col venetoclax e più del 50 per cento fra il 50 e il 55 per cento hanno ricevuto invece un tampone ogni volta prima della somministrazione del rituximato. Quindi diciamo in altri termini questo significa che i pazienti sono stati strettamente monitorati dai clinici non sono state diciamo diagnosi eh occasionali in assenza di sintomi di infezioni da covid non ce ne sono state ma l'incidenza in questo periodo di osservazione è stato di due pazienti un paziente ha recuperato e dopo una discontinuazione di ventuno giorni è riuscito a riprendere il trattamento col venetoclax un secondo paziente invece ha finito la terapia intensiva e purtroppo il paziente è deceduto. Però diciamo globalmente questi dati ci riferiscono un'incidenza che è dell'1.6 per cento e diciamo come dire sono dei dati che matchano molto bene con quello che è una recente survey pubblicata pochissimi giorni fa su ematologica e oncologica che fa riferimento ad uno studio del campus CLL e che fa riferimento ad un periodo analogo a quello appunto della survey e che ci porta un'incidenza che è del tre per cento quindi diciamo tenuto conto appunto che parliamo di pazienti differenti più eterogeni nel CLL campus come vede il l'utilizzo di Murano in un contesto di un eh come dire di un contesto di reparti di ematologia che hanno sviluppato oggi un'attenzione maggiore alla gestione di pazienti nella fase del covid ovviamente è una cosa che assolutamente diciamo ha dato un valore aggiunto di gestibilità della terapia a termine e diremo meglio poi come dire quanto questa terapia a termine oggi abbia un valore che è assolutamente importante per questi pazienti. Ecco dottore ma quindi sulla base di questi risultati che lei ci ha appena descritto che messaggio si può evincere da un lato per i medici dall'altro per i pazienti e che ricadute potrebbe avere diciamo la vostra survey? La ricaduta intanto è una ricaduta come dire cioè per la prima volta vengono forniti dei dati eh di real world per quanto riguarda un gruppo omogeneo di pazienti e sono dei dati di cui ehm come dire raccomandazioni linee di indirizzo certamente dovrebbero tener conto e sicuramente sono dati più recenti rispetto ad altri dati che fanno riferimento alla prima ondata e ci dicono che in un contesto diciamo di ragionevole attenzione eh una terapia a termine con venetoclax e rituxi ma può essere condotta in modo sicuro. Ma il secondo punto secondo me che è ancora più importante e che diciamo ci porta all'attuale problematica che noi abbiamo dei pazienti con le ocemia linfatica cronica che l'impatto diciamo delle procedure vaccinali per quanto riguarda la diciamo la la del covid e oggi noi sappiamo molto bene diciamo ci sono due tre studi in giro uno studio molto importante anche con una consistenza maggiore di numeri e il tasso di positività cioè i pazienti con le ocemia linfatica cronica che riescono a produrre un tasso di anticorpi adeguato è intorno al 40 per cento quindi diciamo sappiamo oggi che rispetto al cento per cento degli individui come dire sani e che i trial clinici di fase tre ci hanno dimostrato pazienti con le ocemia linfatica cronica hanno un sistema immunitario che non è in grado di eh come dire rispondere in modo adeguato in termini di siero conversione per dirla tutta. Però sappiamo anche abbiamo ricavato anche delle informazioni importanti che diciamo che questo 40 per cento non è distribuito in modo omogeneo su tutti i pazienti ma ci sono alcuni pazienti per esempio i cosiddetti pazienti che sono treatment naif i pazienti in watch and wait che rispondono meglio rispetto ai pazienti che sono sotto terapia. Poi c'è un'altra categoria che secondo me è estremamente interessante che sono quei pazienti che hanno ricevuto una terapia a termine e che da molto tempo sono in astensione terapeutica questo sottogruppo di pazienti è quello che meglio risponde al vaccino in termini di siero conversione. Allora cercando un po' di trasferire queste informazioni su quella che è la filosofia di una terapia a termine diciamo dell'associazione di veneto claxia rituximab questi pazienti sono pazienti che nel futuro possono realmente candidarsi ad essere i pazienti più rispondenti alle procedure vaccinali che noi nel tempo andremo a ripetere in questi pazienti con scadenza animale o differente questa ancora non sappiamo bene che probabilmente questi pazienti sono quelli che ottengono delle risposte migliori ottengono delle risposte più profonde e risposta profonda significa anche c'è recupero un po' per quanto riguarda diciamo la capacità del sistema immunitario di rispondere in modo adeguato con una siero conversione adeguata ai vaccini.